Ciao sono Fanny e oggi andiamo a fare l'unboxing di questa idropulitrice che mi è appena arrivata della TopShack. Vediamola subito. Pistola, canna, manuale di istruzioni, tubo. Ok, non c'è altro. Ok, questa idropulitrice vediamo che è compatta ma ha anche una maniglia per il trasporto con le ruote, quindi molto comoda ma assolutamente compatta. Qui abbiamo ovviamente la pistola col suo grilletto, il tubo, accessori, manuale di istruzioni, garanzia e in solito link per andare sul loro sito internet. In questo modello sviluppa 1600 watt di potenza e una pressione di 13 atmosfere con una portata di 380 litri l'ora. Come dicevo le dimensioni sono compatte, infatti siamo sui 30 x 30 cm x 45 cm circa da chiusa, quindi praticamente ci sta ovunque. Ok, vediamola più da vicino. Qui c'è il supporto per la pistola, il serbatoio per il detersivo e di qui abbiamo l'entrata dell'acqua e l'uscita dove attaccare il nostro tubo per l'alta pressione. Ok, io ho collegato l'uscita dell'acqua ad alta pressione di qui e qui abbiamo un riduttore per la canna dell'acqua, quindi per l'ingresso. Quindi qua abbiamo l'innesto rapido per la canna dell'acqua, quindi comodissimo. Non mi resta che attaccare la sua spinasciuco alla corrente e possiamo partire. Allora, il tubo dell'alta pressione siamo sui cinque metri di lunghezza e altrettanti li ha la corrente, quindi vuol dire che noi dalla nostra presa di corrente a dove dobbiamo lavare, abbiamo 10 metri di spazio. Allora, l'innesto della pistola, così, si infila così, poi c'è una sicurezza che impedisce al tubo di staccarsi accidentalmente. Questo qui ha una guarnizione, quindi si inserisce così, in questo modo si schiaccia e si gira. Mentre con questo possiamo regolare il getto. Adesso andremo a testarlo per capire la funzione, ma dovrebbe aumentare la pressione o diminuire. Oltretutto la pistola ha questo grilletto, ma con una sicurezza, quindi così si aziona. Se noi schiacciamo il grilletto, rimane bloccato, così non possiamo accidentemente spruzzare. Come vedete siamo in autunno, ma il grilletto è abbastanza annerito. Questa è la condizione attuale del pavimento, quindi bello annerito. Adesso io collego l'acqua senza detersivi, quindi per provarla la proverò senza detersivo e vediamo come si comporta. guarda l'effetto solo con l'acqua. Adesso è rimasto dentro un po' di sgrassatore nella macchina. troverò a bassa pressione a spruzzarlo e poi alta pressione e vediamo cosa succede. a 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